La rassegna stampa è offerta da www.infissipersempre.it A Nardò Venerdì 21 gennaio, buongiorno a tutti. Dopo il caso scandalo che ha coinvolto il Presidente del Consiglio, oggi parla il Vaticano chiedendo più moralità. Vediamo i titoli. Iniziamo con il Corriere della Sera. Il Vaticano chiede più moralità. Caso Rubi, Bossi critica la Chiesa, poi frena. Oggi la memoria difensiva di Berlusconi. Richiamo di Bertone, siamo turbati come napolitano. Google, ribaltone a Google, annunci via Twitter. Cambio la confindusse di così alla partecipazione dei lavoratori agli utili. Emma Marciagaglia, meno convegni, più servizi. Non ti ho salvato, suicido di una madre. La figlia era la modella anoressica morta. Passiamo al messaggero. Il Vaticano, moralità e legalità. Caso Rubi, il segretario di Stato Bertone. Condividiamo il turbamento di Napolitano. Bossi, facile parlare. Il Curinale insiste, più sobrietà. Berzani, 10 milioni di firme contro il Premier. Alla fine la pastorale vinse sulla Realpolitik, così è maturato lo strappo della Chiesa, l'ira del Premier contro i giudici golpisti. Processo di piazza, ma in piazza ci vado anch'io. Federalismo, no, da terzo pole PD. La Lega tratta, se non passa, si vota. Il nodo del fisco locale, anche comuni, boccano i decreti attuativi. Festini, coca e corruzione. 11 indagati a Roma. Il 17 marzo, festa nazionale. Napolitano renderà omaggio a Vittorio Emanuele II. Prove incerte. Bus conoscente. Roma, la ringa della difesa al processo sul delitto di via Poma. L'Europa, Battisti, Venga stradato. Il Parlamento europeo chiede a Brasile di consegnare il terrorista alla giustizia italiana. Passiamo alla stampa. La Chiesa, più moralità, federalismo, no. Adancio, opposizione. Bossi, proroga di pochi giorni. Chiamparino, la Lega, lasci il PDL e lo faccia con noi. Bertone, Santa Sede preoccupata. Il Vaticano sulla linea del Curinale. L'Associazione Nazionale Magistrati non ci faremo intimidire. Sfrattate le ragazze del caso Rubi. La campagna shock. Si uccide la madre della top onoressica. La donna non ha retto ai sensi di colpa per la morte a novembre della figlia che era arrivata a pesare 30 chili. E non si annullano i matrimoni lunghi. Le sentenze della Cassazione. Unità d'Italia, festa nazionale 17 marzo. Napolitano renderà omaggio a Vittorio Emanuele II. Torino, ecco il nuovo museo dell'auto. Mafia in USA. L'FBI decapita le cinque famiglie di New York. Corriere del Mezzogiorno. Influenza A. Un morto al giorno. Il virus H1N1. Quinto decesso. Il piccolo aveva una patologia polmonare. Non era stato vaccinato. Vittima a un bambino di 17 mesi. Germinario cessato. Sottovalutazione. Delitto di Avetrana. Coppi misseri. Inattendibile. Lo provano le sue lettere. Vendola a Roma con i precari. Con le assunzioni. Si risparmia la protesta. Ha accompagnato i lavoratori. Non internalizzati. Il Milan targato Cassano. Travolge un povero Bari. E stop alla discarica di Lizzano. La regione sospende l'autorizzazione per 10 giorni. Passiamo alla gazzetta del mezzogiorno. Il Vaticano gela Berlusconi. Sexy scandalo. In campo il cardinale Bertone. Bersani 10 milioni di firme per mandare a casa il premio. Montezemolo. Paese a rischio. Serve più moralità e legalità. Napolitano chiede più sobrietà. Bossi alla chiesa. Nessuno vi controlla. Ma Silvio abbassa i toni. Il federalismo è invilico. La Lega passa o si vota. Le opposizioni pronte a sfiduciare bondi. Giovane passore sardo ferito alle gambe. Ora è caccia e due killer. Melendugno grave fatto di sangue nel mirino. Daniele Balloi. E della regione vendo la marcia su Roma con i precari della sanità. Anche il governatore protesta al ministro della salute. Fitto e disponibile ad aprire un tavolo tecnico. Ma chiede lo stop delle manifestazioni di piazza. E fonti rinnovabili. La Capone frena su Zamparini. Il caso Brindisi. Mini impianti per il fotovoltaico. Puglia. Tagli del 10% ai rimborsi dei consiglieri. Ma il risparmio è bruciato da vitalizi e indennità. I matrimoni lunghi non sono annullabili e la mafia ha decapitata la cupola di New York in 100 arresti. Per quanto riguarda la Coppa Italia invece il Milan di Ibra e Cassano cala il Tris. Bari eliminato. La gazzetta di Lecce. Gambizzato. Pastore sardo. Ora e caccia ai due killer. Nell'agguato è stata usata una pistola di grosso calibro ma i banditi non volevano uccidere. Succede Melendugno. Greve fatto di sangue. Ieri sera nella masseria Il Capitano dove nel 99 vennero trovate le due auto della strage della grottella. L'aumento del grattino finisce in procura il caso dei parcheggi a Lecce. Confiscati i beni per 4 milioni a Copertino. Provedimento nei confronti di Giovanni 13. Denunciati 16 genitori. A Gallipoli i figli non vanno a scuola e finiscono quindi nei guai. Passiamo al quotidiano. Multe record 6 milioni di euro. Automobilisti leccesi nel Mirino. Raddoppiato l'incasso in un anno. Evasi da Natale dopo la licenza premio. Due pregiudicati leccesi non rientrano in carcere. Sospetti sulle rapine in corso. Il caso di Sara. In casa Misteri tornano i Ross stretta su Cosima. Assunzioni Asl. Spiralli da Roma. Influenza muore bimbo di 17 mesi. E del delitto padovano. Fiume di Testimoni. Aguato in Masseria gambizzato un pastore misterioso ride a Melendugno. E per quanto riguarda il Lecce e il calciomercato. Diamutene grazie a Lecce. Semeraro Martinez ci piace. Passiamo alle pagine interne. Influenza muore bambino. Non c'è un caso Puglia. Cinque decessi. Ma le vittime avevano patologie pregresse. Se è deceduto a Bari bambino di 17 mesi già malato. Stazionare le condizioni dei ricoverati. Gli esperti fate il vaccino se ancora in tempo. Vigili grazie per il vostro impegno. Celebrata dall'alcivescovo d'Ambrosio. La messa per San Sebastiano. Presente tutte le autorità militari e civili. I rappresentanti della magistratura. Le famiglie degli agenti. E i vigili baby. Contravvenzioni. Più 138% in cassa. Ovvero 6 milioni di euro. Più che raddoppiati nel 2010. L'introiti delle multe. Quasi la metà per l'accesso ai varchi del centro. Presto più personale. E un nuovo parco mezzi. Infine le pagine di sport. Brivio. Lecce. Devi insistere. Domenica. L'ex terzino Viola. Tornerà per la prima volta al Franchi da avversario. Bisogna dare seguito agli ultimi risultati. Diamutene. Ho avuto dei compagni splendidi. Il Mariano sabato debutterà con il Pescara. Ma non mi dimentica Giacomazzi e compagni. Prima di andare via. Mi hanno fatto un coro. Che non scorderò mai. Per quanto riguarda il mercato. Faremo altri due acquisti. Il presidente Semeraro. Puntiamo a rinforzare la difesa. E per le serie minori. Serie D. Il Nardò con l'Ischia. Sperando nella vetta. Salvador e Casarano a Gaeta per vincere. Il Gallipoli va. Ma non ci montiamo la testa. La rassegna stampa termina qui. L'appuntamento è con il Tg. La rassegna stampa è stata offerta da Doiter.